Assettiamo che abbiano finito l'interrogatorio del monaco, il signore del castello. Ha il piacere di darvi un zollazzo. Giocheremo col fuoco e perciò vedremo un giocaliere del fuoco. Ecco, io lo vedo, è quasi pronto. Per cortesia, allargatevi. Fate un po' di spazio, un po' di spazio, se volete vedere lo spettacolo del fuoco. Giochino, dimmi te quando va bene. Giochino, non basta, non è spazio. Coppolo, ho il piacere di presentarvi il maestro del fuoco, il volpe. Abbiamo problemi, abbiamo problemi con l'inquisizio, un po' di resistenza. Ancora un po' di spazio, mi chiede. Ancora un po' di spazio. Per favore, ancora un po' di spazio. Indietro! Grazie, grazie, un po' inondietro. L'arco! Grazie, grazie, un po' di spazio. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Sì, sì. No, non ce l'ho. Grazie, bravo. Bravo, Goldie! sembra che questo ragazzo sia abbastanza bravo il prigioniero è pronto ancora un secondo aspetta, buona la gente si deve godere tutto lo spettato bravo Cino, bravo ancora un applauso anche sputafuoco attendi qua la tua fine monaco vieni ti prego senti il fuoco dell'inverno il ragone il ragone di Viterno e adesso ci divertiamo davvero leggiamo prima i tuoi peccati che vedo i tuoi innumerevoli peccati hanno domine 1295 di fronte a noi oppare a giudizio il monaco detto anche Alessandro da Sumiretum detto il sicolo o qualsiasi altro nome suole usare figlio di genitori sconosciuti siete posti a giudizio pietà vi dico pietà noci bestia siete posti a giudizio a giudizio del tribunale del tribunale di Miserno alla presenza del conte e della popolo tutto un po' di brio non credito noci bestia siete accusati di omicidio di un cavaliere templari di voi poi prendete il nome e il titolo dissacrazione di cadavere, furto di paramenti facri, usurpazione, sodomia, la sfemia, ma soprattutto tradimento, no sono menzogne, vi prego liberatevi, in fronte alle accuse, noi, David de Cardellac, massimo inquisitore di sacra romana chiesa, vi condanno Alessandro di Suveretum alla pena di Piccacione, no, finché la morte non sopraggiunga, no, pietà, vi prego, e non finisce qua, sarete sepolto in terra sconsacrata, possa nostra signora aver pietà di voi, pietà, vi dico, pietà, dagli uomini, da Dio, pietà, Torno, prendetelo, torno inoscente, ston facendo un errore! Venga, ora devono prendere tutte io, puoi, 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 puoi! mi prego pietà manca le mani legate chi tradisce le ombre no mi prego siate clementi vi prego siate clementi no mi prego no no rotta il mio segnale no mi prego lasciatemi andare sono innocente non è vero mai allora popolo poniamo fine alla vita di questo traditore si 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 no e sia muori muoia esegui vi prego sono innocente vi maledere a tutti ah ahahah ahacyj a uh E adesso madame Messieri vengo a presentarvi le compagnie che hanno presenziato queste scene. Già prima la confraternita del lupo con Jacopo, Gianni, Luigi e Glauco, l'ho morto. L'ho morto, l'ho morto, l'ho morto, l'ho morto, l'ho morto, il gallico, e mi chiamiamo l'ho morto, Giacchia Volofobro, Eric Locananero, Ilis Lombroso, lo storpio per eccellenza ma solo per caso, Gianni, lo trabucco, infortunato sì. Federico Deloscini, sette il volpe!